Buona serata, ben ritrovati all'appuntamento con Match del Giovedì. È partito un match sport, lo dico subito, ma forse è partito per sbaglio. Comunque sia l'appuntamento di Match del Giovedì, anche se comunque un po' di sport ci sarà e già lo stavamo commentando con gli ospiti in studio. Allora, dicevamo, nel giovedì in cui c'è l'Eurovision Song Contest, di cosa possiamo parlare? Parliamo dell'Eurovision, ovviamente con ospiti che siano legati al mondo della musica. Allora, do subito il benvenuto e il bentornato da Andrea Poltronieri. Ciao Nicola, ciao a tutti, buonasera. Ecco, vedi, dicevo poco fa, è uscito Match Sport nella sigla, perché stavi parlando già di calcio, quindi ci arriveremo in qualche modo. Sì, perché posso dirlo a questa cosa? Dai, vai pure. Ci sono i play-out, no? Sì. Fortunatamente la Spau ha scampato questa cosa. Poi te ne dico un'altra dopo. Ecco, c'è Cosenza, Vicenza Cosenza, l'andata, e c'è un gol incredibile del Cosenza annullato. Quindi ci sono delle polemiche pazzesche, io tra l'altro l'ho rivisto adesso e non capisco perché l'abbiano annullato. Cioè, non lo capisco. Vabbè, così vi teremo aggiornati un po' su... Ma c'è Belen? È Belen quella? Sì, hai visto? Belen di Malta, però. Spero che saluto anche gli altri, parlando di calcio, è tornato anche Max Fogli. Ciao Max. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Allora, come dicevo prima, lo dico in diretta, sei passato dalla giacca e cravatta della Spal, invece oggi sei in versione artista. Io ho iniziato ad andare al mare quando è finito Match Sport e la Spal si è salvata. Allora in quel momento ho deciso, adesso si può andare al mare, siamo tutti sereni e tranquilli e parliamo di musica. Anche perché è bello che l'altro giorno ci dicono buone vacanze, ma buone vacanze a chi? Cioè, buone vacanze alla Spal, giustamente, però noi siamo ancora qui operativi. Ma ci si sdoppia la personalità, finisce lo sport e inizia la musica. E poi, non arriva dal mare oggi, però comunque è origini marittime in qualche modo, anche Michael Buttini. Ciao Mike, come hai ritrovato? Buonasera, buonasera a tutti. Piacere essere qua con voi. Michael Buttini, 60 lire, conduttore radiofonico, poi adesso anche 22 HBG, Fem World, insomma fai una marea di robe in pratica. Sì, cerco di impiegare il tempo in qualche modo. Poi ogni tanto vieni qui a seguire anche l'Eurovision, ma senza ascoltarlo. Infatti, tutte le volte che vedo qualcosa con te, tipo Sanremo, Eurovision, non me lo fai mai ascoltare, però va bene così, ormai ci orientiamo con le immagini, va bene così? Allora, per chi ci segue appunto il giovedì, sappiate che siamo in diretta, quindi potete scriverci via WhatsApp al 342 017 6235. Parleremo di musica prevalentemente, però avete visto che anche il calcio tornerà come avviene in ogni puntata di sport. Dicevo, è in corso l'Eurovision, ma ne profitteremo anche per raccontarvi quelle che saranno le serate estive, le prospettive, diciamo, dei nostri ospiti in studio per quello che riguarda questa stagione che sta ripartendo. Io però volevo cominciare subito da Andrea Poltronieri, perché questa puntata mi è venuta in mente quando ho visto l'altro giorno Andrea Poltronieri a Torino, non so, negli eventi collaterali, si possono chiamare così, dell'Eurovision Song Contest. Eh sì. Ma eventoni tra l'altro. Eurovillage, che praticamente è questo mega villaggio a Torino e abbiamo fatto il concerto con Cristina D'Avena e i Gemboy, io sono già con loro da una decina d'anni e sinceramente non pensavamo un afflusso di pubblico così, c'era una roba impressionante, c'erano 15.000 persone, quindi poi sotto la pioggia perché alle 17 pioveva, ma tantissimo pioveva, eppure c'erano tutte queste persone. È stata bellissima, un'organizzazione incredibile, un sacco di sicurezza, di robe, abbiamo visto qualche personaggio, qualche cantante che si aggirava lì per fare interviste e robe del genere e è stata una cosa pazzesca, cioè io mi sono divertito un sacco, veramente. Ecco, tra l'altro, tu ormai sono anni che lavori con Cristina D'Avena, quindi sei abituato anche a palchi importanti, devo dire, non solo con lei tra l'altro, però quello dell'altro giorno tu hai raccontato che è stato, vabbè, molto impattante, però è stato anche un ritorno al grande pubblico dopo due anni in cui, vabbè, ok, qualcosa è stato fatto, però in maniera sempre molto ridotta, molto meno partecipata, insomma. La cosa impressionante è stato vedere dopo tanto tempo un pubblico, vabbè, a parte così numeroso, però sotto il palco, senza mascherine, vicini, che ridevano, che applaudivano, che urlavano. Pochi avevano anche il telefono in mano che secondo me può passare anche questa mania dei concerti, di avere sempre il telefono in mano e mi chiedo come fanno a stare col il telefono in mano a riprendere cosa? Che poi non si sente niente perché sei sotto le casse. Quando mai lo rivedi, che è tutto così, fai una foto e mettilo via. Gustati il concerto, questa è la mia impressione. Eh, però questo è il tuo concetto, ma in realtà lo sappiamo che quando ci sono i live sono tutti lì così, ho visto anche il concerto del primo maggio in televisione. Con i tablet. Esatto. Forse qualcuno. Comunque erano tutti così, per cui ormai ho detto a prassi. Però Nicola, guarda, credimi, ragazzi, vedere le persone vicine, senza mascherine, a suonare e vedere proprio questa voglia, quindi ti carica, no? Cioè, anche Cristina si è caricata ancora di più del solito, perché poi abbiamo fatto un set abbastanza tirato, perché le sue sigle, comunque, riarrangiate da noi, suonate dal vivo, hanno un tiro, sono pezzi quindi lì che, quando li vai a tirar fuori, sono stati iscritti da autori mediaset storici degli anni Ottanta, no? Quindi anche armonicamente sono brani, e poi comunque sono nel nostro immaginario, la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di tornare bambini per una sera e noi abbiamo veramente, ce l'abbiamo messa tutta per fare poi un impianto pazzesco. Ecco, allora, tra poco vedremo anche, tra l'altro, alcuni video che ci hai portato, uno in particolare dove c'è la mitica occhi di gatto, che è quella, insomma, la... Poi tra l'altro io ho una parte di sax lì che, parara, guarda, lì la gente è impastissima. Cioè, uno ha studiato trent'anni sax con... No, però sai, effettivamente, magari adesso coinvolgiamo anche Max e Michael, cioè, al di là di Cristina D'Avena come personaggio, cioè, mi fa specie di quanto le sigle dei cartoni, quindi quelle che noi abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli, insomma, comunque ma sono da giovani ancora, ti rimangono, cioè, è un qualcosa per cui veramente, cioè, più di qualsiasi altra cosa diventa parte di te, praticamente. Però, come hai detto tu, la generazione si è un po' fermata, perché io ho due bambine piccole e le sigle, a parte che adesso i cartoni... Ci sono troppi cartoni. Sì, cioè, c'è un altro modo di guardare i cartoni, quando eravamo piccolino, cioè io, c'era Goldrake, ti guccavi la sigla di Goldrake, quella che andava avanti, o mettevi pausa, la sigla te la vedevi, no? Comunque io, pochi anni di meno, ma anch'io ho vissuto quell'epoca, quindi ricordo le prime serate, non so, alle otto la sera su Italia 1, c'era quel cartone, quello era, c'era i nastri, eh? La mia preferita, per papilla, ecco, diciamo così. La mia preferita in assoluto è quella delle tartarughe ninja, che era, io neanche so cosa come... Però chi la cantava? Non la cantava la Cristina? Non la cantava Cristina D'Avina, la cantava, penso, Giorgio Vanni. Giorgio Vanni, che diciamo che Nicola è, diciamo, loro due se raccontano Giorgio Vanni e Cristina D'Avina. Chiaro che Cristina, insomma, ha forse poche sigle in più, sì, molte in più, però anche Giorgio Vanni, devo dire che ha le sue Pokémon, ecco, Dragon Ball, Dragon Ball generazioni, forse più vicine a voi. Io ho la sigla di Che campioni Olly e Benji, quella è una sigla incredibile. È il secondo brano di scaletta che facciamo. Che campioni Olly e Benji? La seconda serie di Olly e Benji, perché la prima era cantata da un bambino piccolissimo che avrà avuto tre anni, però quella non è Che campioni Olly e Benji, è Olly e Benji due fuoriclasse, sono due serie diverse. Poi un'altra sigla fantastica è quella di Lupin, perché la sigla di Lupin è proprio un brano d'autore, proprio. Castellina Pasi, orchestra Castellina Pasi, che ha scritto questo. Quello che mi ha scritto. Insomma, eventualmente, se volete anche darci qualche suggerimento, intanto oggi è arrivato qualche grande poltro, mentre stavi parlando, è firmato, però insomma. Allora, una bella esperienza che tra poco vedremo, magari anche con Occhi di Gatto, però prima di andare magari a vedere questo video, visto che insomma, perlomeno ho anticipato che abbiamo parlato anche un po' dell'Eurovision. Tu cosa ne pensi, Andrea, dell'Eurovision? Cioè, è un evento che seguivi oppure ti ci sei ritrovato in qualche modo? Ma io, se sono sincero, diciamo che sapevo che c'era, sono quelle cose che sai che c'è, però non è che la vedevo o la seguivo. Ho seguito un po' gli ultimi anni, da Mahmood in poi, dico la verità. Cioè, Mahmood che vince il festival, va là, arriva secondo, poi i Maneskin che arrivano e vincono, quindi da lì è chiaro che ti interessa e lo segui di più. Poi è stato chiaramente più pompato, perché gli anni scorsi non era così. Ed è uno show incredibile. L'unica cosa che mi dispiace, ecco, adesso sto vedendo qualcuno che sta suonando dal vivo o fa finta, non lo so, però... Ma mi sa che c'è Achille Lauro adesso, è lui. Achille Lauro che fa una solo, sembra... No, è sul tono della Cuccarini, quello che c'era... Il chiterista è Boss Dom, che è il suo produttore, che è sempre il suo miglior amico, che è con cui suona con lui. È vero, ma ecco, è giusto. Però secondo me questo è un half playback. Può essere. Però secondo me l'Eurovision negli ultimi anni è diventato importante perché, a parte ha unito sia appunto il media della televisione, fino ad arrivare ai social in maniera più fusa tra di loro, io ho cominciato a seguirlo da Gabbani quando vinse con l'Occidentale di Scarpa nel 2018, arrivò quinto lui in quell'anno lì, però se non sbaglio l'Eurovision in Italia è tornato dal 2014 perché Sanremo non mandava il vincitore dal 2010 al 2013, c'è stato un buco dove il vincitore di Sanremo non andava all'Eurovision. Ah, lo so questa cosa perché io so... Tu hai studiato, eh? Sì, no, ma sono appassionato di queste cose. Ma lui l'ha fatto per Wikipedia per Radiosound oggi immagino. Erano anche quelle linee parallele, diciamo, che non si incontravano, perché anche Sanremo ha vissuto dei periodi che non erano molto nei fasti, non era molto seguito, ha avuto, diciamo, una ripartenza negli ultimi anni di pari passo con quanto si è seguito l'Eurovision. Quest'anno poi è stato veramente una bomba, eh? Però una cosa che secondo me una parte degli italiani non aveva accolto è che l'Eurovision proprio non c'entra niente con Sanremo, cioè noi in questo momento stiamo vedendo, mentre vivi, raccontiamo tutto, le immagini, vediamo Cattelana e Mica che stanno parlando, ma immagino che in questo momento su Rai 1 si sentano loro in sottofondo che parlano in inglese e Corsi e Malgioglio che stanno commentando. Quindi, cioè, è un concetto anche strano di spettacolo da questo punto di vista. Molto veloce, tanta musica, anche perché in due ore praticamente fanno tutto. Roba che a Sanremo ci vorrebbero sei ore con tutti i cantanti che... Hanno dimostrato ad Amadeus che anche con 17 canzoni riesce a finire alle 11, no? E' giusto. Eh ma credo che sarà alle 11, probabilmente sono ancora al secondo brano, forse a Sanremo. Ma la cosa che a me piace dell'Eurovision, che ha sposato un po' il sound internazionale di tutti i pezzi, e poi è anche figlio di quello che è stata l'evoluzione di Sanremo negli ultimi anni, da Baglioni fino poi ai tre anni straordinari di Amadeus, che hanno riportato un'internazionalità nella musica italiana. Quindi portare comunque la musica italiana che è sempre stata vista come musica popolare, musica un po' più... non avvezza magari a un pubblico europeo, un pubblico internazionale, è arrivata ad esserlo negli ultimi cinque anni, e quindi ha fatto bene sicuramente alla musica italiana essere internazionalizzata dai Maneskin, a Mahmood e chi che sia, insomma, eccetera. Allora, tra chi ci sta guardando c'è un certo Alex, che ho il sospetto che sia uno che conosce bene, voi due in particolare, eh? Sì. Grande Polto, grande Max, lo faccio tutti. Ecco, poi magari più tardi vi chiedo anche di raccontarci questa cosa. Allora, Alessandro, che è in regia, se ci puoi mandare occhi di gatto, così intanto noi, mentre, non so che ci sia in questo momento la loro vision, anzi, ve lo dico subito, dovrebbe essere dopo San Marino, Australia, esatto. Per cui, tra l'altro molto particolare il look. Mi ricorda quello che c'è stato due anni fa o tre anni fa a Sanremo, come si chiamava quello che aveva condannato tutti quanti? Aveva la maschera. Quello che era violento. Junior Kelly. Junior Kelly, ecco, vedi che tu darebbe... Infatti dopo un mese c'è stata la pandemia mondiale. Esatto, ma poi tra l'altro Junior Kelly... Un precursore. Guarda che è pastesca sta cosa. Sì, sì. Ma poi tra l'altro dopo Junior Kelly, che ricordo che prima che si esibisse era uscito di tutto e di più, dopo un mese... Sparito. Sparito. Cioè, anzi, se qualcuno conosce Junior Kelly, a parte Max Fogli, ci mandi un messaggio molto volentino. Lo conoscevo da prima che andasse a Sanremo. Ma immagine, immagine. Ha aperto un'edicola. Ciò che è in dei giornali adesso. Edicola Junior Kelly. Allora, siete pronti per cantare Occhi di Gatto? Alzate il volume della TV. Lo ascoltiamo live direttamente dall'Eurovision, l'Eurovillage poi era, giusto? Eurovillage, sì, Eurovision Village. Esatto, di Torino. Vediamo. Ok. Va bene, intanto ringraziamo la regia. Occhi di Gatto. Io credo che qualcuno da casa abbia saltato a ascoltarla, perché è un classico. Poi è proprio del ritmo questa canzone qua. Tu poi, vabbè, col sax ti sarai divertito un sacco. Poi, hai detto giustamente tu, ci stavamo chiedendo chi potesse aver fatto questo video, che comunque è fatto anche bene. Fatto con il cellulare. Anche perché poi alla fine dei conti, se uno capisce intanto che i video andrebbero fatti orizzontali, perlomeno per mandarli in televisione, perché è un classico che ormai tutto si vede così, effettivamente la qualità dei telefonini oggi è assolutamente elevata. Anche quello di Michael forse, non lo so. Il mio assolutamente no. Lasciamo stare. Comunque, io, sta canzone qua, con Poltro, l'abbiamo suonata insieme un sacco di volte. Sì, sì. E tutte le volte è sempre bello sentirtela suonare. È sempre bello. Bene, bene, bene. Grazie. Vabbè, allora intanto, giusto per aggiornarvi, lo dico per chi ci sta seguendo in diretta, sta continuando l'Eurovision. Dunque, questa dovrebbe essere Andromache, giusto? Non so se è Ela il nome di lei oppure Andromache. Vabbè, comunque è Cipro, quella che è rappresentata in questo momento. Poi insomma, dopo seguiremo un po' la volta e l'evoluzione. Stasera si esibiscono 18 gruppi, persone, insomma artisti. Ne rimangono 10 che si vanno a sommare agli altri 10 che hanno passato l'altra semifinale. Poi c'è questa cosa strana dell'Eurovision che 5 paesi, tra cui l'Italia, così si è deciso che subito in finale. È un po' discriminatoria questa cosa. Anche l'Inghilterra, chiedo, eh? Non lo so. Mi sembra di sì. Siano l'Inghilterra, l'Italia, la Germania, la Francia e la Spagna, che hanno creato loro l'Eurovision e quindi hanno questo privilegio. Io porto il pallone e io faccio le regole. Ho letto che Blanco si è lamentato perché gli spagnoli li trattano male. Perché lui voleva esibirsi come fecero i ridotti di Pepper, nudo, coprendo con un calzino la sua... Ah, non l'avevo letto. Adesso non so se lo fa, però può darsi che lo faccia. Vediamo. Vediamo, non vediamo l'ora di capire. Anche perché, ecco, così, torniamo un attimo sull'Eurovision. Quanto c'è di immagine e quanto di musica? Tutti e tre, sentiamo. Beh, secondo me, ad un primo, così, ti viene da dire, c'è un 70% di immagine e un 30% di musica. Quando in realtà, però, va andando dentro e scoprendo un po' le cose, tipo, perché ho chiesto l'Inghilterra? Perché questo rappresentante cantante inglese, che non so se avete visto... Pazzesco lui. Quello, io lo seguo sui social da veramente tanto tempo. Lui sembra un vichingo, non so se è il presidente che è. Mi sfugge il nome. Tra l'altro sarà anche a Ferrara al Summer Festival. Quindi, se vince, che secondo me ha grandi possibilità, potrebbe essere stato un colpo da mille. Perché tanti dicono, ma chi è? Questo qui è uno che, Michael... Sì, sì, lo seguo da un po' io. Cioè, questo qui... È pazzesco, pazzesco. È l'unico che canta, secondo me. Ma canta, canta veramente questo qua. Adesso il nome non riesco a memorizzare. Adesso vado a vedere... Il rappresentante... In questo momento è soltanto la scaletta di stasera, non in quella di... C'è anche lui stasera come ospite, visto il finale. Hai capelli lunghi, sembra un vichingo, ha una voce altissima. Un'estensione pazzesca. Quindi, in questo caso, secondo me, il 90% è la qualità e la musica e il 10% l'immagine. Quindi, non c'è una regola. Poi, chiaro, trovi quello che fa l'esibizione del... Sam Riders, Spaceman. Sam Riders, Sam Riders. L'ho passato oggi in radio e tanta roba in quel pezzo. Ok, in unito, vedo adesso. Sarà a Ferrara il 7 luglio. Ecco, intanto, allora, le Big Five, quelle che non hanno bisogno... Quelle che, insomma, hanno accesso diretto. Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Quindi, sì, i paesi fondamentalmente dell'Europa centrale. Danno tutti per favoriti, comunque, il gruppo dell'Ucraina. Sì, sì, sì. Beh, devo dire che però l'altra sera gli oghisti... Non male, eh. Allora... Anche loro molto... Non so come dire... Molto d'impatto, d'immagine, con le sonorità tipiche, insomma, del loro paese. Con... La parte rappata... Con la parte rappata, esatto. Vabbè, sai che non mi ricordo più cosa ho chiesto a lui, quindi so che tu dovevi rispondere, ma non mi ricordo più quella della domanda. Io rispondo con una domanda interrogativa, anche per il pubblico da casa, che magari potrebbe interagire. Da Elvis Presley in poi, quanto l'immagine ha influito su tutti quelli che ci sono resi icone? Eh, no, effettivamente... Ognuno a livello di immagine, penso che in varie percentuali, in varie forme, in vari metodi, ma se pensiamo a Freddie Mercury non possiamo dire che fosse stato un personaggio sobrio che cantasse in tutta. No, guarda, dalla regia dicono, non è vero, non sono d'accordo, tutti tranne Lucio Dalla, non è assolutamente vero. No, Lucio Dalla aveva un'immagine fortissima. Lucio Dalla, secondo me, invece, esatto, al contrario. Aveva un'immagine fortissima. Lucio Dalla, ragazzi, era riconoscibile tra mille. Esatto. No, però sto pensando a Bob Dylan, sto pensando a James Taylor, sto pensando a Bruce Springsteen, che immagine hanno? Hanno un immaginario, non hanno un'immagine, hanno un immaginario, che comunque è qualcosa che fa sognare chi guarda, e chi guarda identifica comunque un'immagine in un viaggio. Però hai ragione, perché Freddie Mercury, per esempio, no? Andiamo a citare... Michael Jackson? Madonna. No, no, assolutamente. Io credo che tra le due, non lo so, credo che tra questi che avete citato di Freddie e Bruce Springsteen, arrivi prima alla voce dell'immagine, poi arriva quello... Però credo che in questo festival, dove l'importanza la danno alle esibizioni e alla canzone, e siccome è tutto tirato, tutto molto veloce come ritmo della serata, è importante che ci sia un'immagine d'impatto, dove ci sia un vero show ad ogni canzone. Io, ragazzi, mi sono chiesto in queste sere, però, che ho visto che ho avuto anche successo all'Erodi Audience, il pubblico medio di Rai Uno, che è un pubblico da fiction, comunque programmi molto... anche musicali, comunque sempre legati un po' al passato, chissà come starà reagendo? Per me non è pronto, non è pronto per coglierlo, perché è molto una cosa difficile da capire, anche per gli addicted alla musica. Nel senso che mescolare veramente tutte queste culture, tutti questi paesi che hanno sonorità diverse, nonostante si è globalizzato anche il suono della musica, comunque ognuno arriva dalla vittoria di un concorso o da una designazione completamente diversa. C'è la vittoria di Sanremo che designa il partecipante italiano, non è la stessa cosa magari del festival che manda lo spagnolo o l'austriaco. e quindi cercare di capire per il pubblico cosa sta succedendo non è proprio un fenomeno di cultura popolare comprensibile per l'italiano che magari si diverte di più a guardare Sanremo con la gag di Ibrahimovic e la comprende di più rispetto a sentire delle sonorità che sono anche strane, nuove per l'utente medio di Rai Uno. Secondo me gioca anche il fatto della durata delle canzoni, perché essendo ridotte, perché a Sanremo non c'è una regola, qua sono tre minuti. Tre minuti, infatti so che anche Brividi, quando la canteranno sabato sera, è stata ridotta, ma proprio anche rieditata. C'è parte su bianco e poi dopo c'è una parte tagliata. No vabbè, sicuramente, però questo è in linea con il mondo musicale di oggi. Con Spotify. Con Spotify, ma anche a livello di social, TikTok, Instagram, velocità, via, via. Vai su col pollice, ti piace o non ti piace, vedi, è velocissimo. Ti do poco tempo per decidere se ti piace o no. Pesso devo arrivare subito, devi curiosirti, altrimenti via. Devi fare delle reel. Qualche giorno fa leggevo uno sui social che diceva, ma cosa sono le reel? I canzoni durano due minuti e venti in media adesso. Fatto sta che credo che i risultati della prima serata confutino un po' tutto quello che abbiamo detto. Sono stati 5 milioni e 8 di audience alla prima serata. Sì, sì, appunto. E l'anno scorso l'ha fatto 3 milioni, quindi la prima. Quindi c'è una crescita anche dal punto di vista del pubblico. Però io credo anche che sia il modo in cui è pompato. Cioè, prima, forse ve lo dicevo fuori onda, non in diretta, parlavano del fatto che ormai è percepito proprio come un evento figo. Poi, per carità, tu me lo confermi, hai detto che ci hai partecipato e hai visto un po' l'atmosfera che si respira a Torino. Bellissimo. Però anche, a prescindere che uno sia a Torino o altrove, cioè, mentre qualche anno fa era vissuto un po', insomma, non dico, però un po' snobbato come evento, adesso invece ho percepito come un evento, insomma, ci sei, sei figo, è bello, comunque è interessante. Poi possiamo anche dare atto all'Italia di averlo organizzato bene e di essere riuscito a fare anche gli eventi satellite di una portata gigante, che era inimmaginabile, fino a pochissimo tempo fa, anche prima della pandemia, immaginare che l'Eurovision arrivasse in Italia e ci fosse veramente una risposta così importante delle persone, da avere 15.000 persone agli eventi intorno e 5.800.000 di share, vuol dire che la gente comunque è interessata a capire anche un po' fare il tifo magari, fare il tifo per l'artista italiano o per l'artista di San Marino che è comunque italiano e quindi... Allora, ci sarei curioso di vedere e capire anche se negli altri stati è seguito, cioè vedere i dati... Guarda, non devi andare in pubblicità, per cui te lo dico tra poco, ti leggo un messaggio al volo, ora più dell'immagine contano i like nelle piattaforme social. Ciao Poltro dal Lupo. È vero, ciao Lupo, hai ragione. Va bene, Lupo rimani con noi e anche tutti gli altri, ci troviamo in diretta tra pochissimo. Continua l'appuntamento di match del giovedì, beh, in questo momento sull'Eurovision hanno scritto che c'è l'uomo più sexy del 2020 dell'anno, noi invece non saremmo forse più sexy dell'anno, ma abbiamo Andrea Poltronieri, Max Fogli e Michael Buttini, io non farei cambio, cioè adesso con tutto rispetto, io non farei cambio. Va bene, allora abbiamo visto già un po' di stimoli che arrivano da casa, mi sto immaginando in questo momento che ci siano delle persone che magari ci guardano in streaming e intanto guardano Rai 1 come succede per la SPAL e a proposito di calcio, in questo momento siamo al settantesimo minuto, Vicenza-Cosenza ancora 0-0 per quello che riguarda i play-out, quindi penso che fosse successo a noi, che sofferenza in questo momento che sarebbe stata. Stavamo giocando contro il Cosenza. Meglio così, meglio così. C'è stato 1 oggi, come ha detto Fama la SPAL, salva. La SPAL, basta, abbiamo sofferto anche troppo. Sofferto abbastanza, va bene così. Va bene, allora, no, attenzione, assegnato in questo momento il Vicenza, 1-0, quindi Vicenza-1, Cosenza-0. Sì, ma con quel gol che hanno annullato, non lo so, sarà un po' di polemica. Vabbè, volevo però aprire un'altra parentesi, poi ne aprirei tantissime con voi. Quest'estate, così parliamo un po' con tutti voi di questo, che estate si prospetta? Andrea, allora tu hai avuto già una bella anteprima, diciamo, con Torino. Sì. Però immagino che ti staranno chiamando in tanti, sta tornando un po' tutto quanto nella norma. Allora, se posso approfittare di questo spazio che mi concedi, dico la mia. Vai. Per quello che mi riguarda, sono contento, perché ho un calendario importante, considerando da dove si arriva, considerando i problemi che ci sono stati, che ci sono. Però, devo dire una cosa, si è creata una spaccatura incredibile, che anni fa non c'era, Michael sarà d'accordo con me e anche Max. Allora, adesso ti faccio un esempio di uno stabilimento balneare, un esempio semplicissimo, dei Lidi anche, no? Allora, anni fa faceva tante cose, faceva la cosina piccola, la cosa media, adesso o fa Bob Sinclair per dire... Sì, sì, certo. Così non abbiamo citato il bar e lo stabilimento, lo avete capito. O fa la cosa piccola piccola del gruppo che sta iniziando a suonare, del DJ che si vuole far conoscere, e quindi le cose medie, diciamo medie, non dico a metà, perché io non sono a metà tra queste due cose, per carità, però sono uno che lo fa da tanti anni, boh, sì, vabbè, però, hai capito quello che dico? Anche a livello di istituzioni e di cose. Quindi si è creata questa cosa, la pandemia ha creato questa roba, tanta gente che lo fa, anche non di mestiere, che va a suonare gratis. Non fatelo, non fatelo, perché la musica va pagata. Piuttosto mettetevi in regola, fatevi, non date un'associazione, ci sono mille possibilità, ma così si rovina il mercato. Quindi lo dico anche per chi non riesce a lavorare, ma è così anche nel teatro, è così nei servizi di amplificazione, è così in tanti campi, io sento tante persone lamentarsi di questo. La cosa certa è che bisogna tirarsi su le maniche più di prima, perché io non sono vasco, non sono giovanotti, io devo fare 20, 30 date, devo fare per andare avanti, quindi i cachet sono quelli. Quindi tiriamoci sulle maniche, andiamo al posto, c'è il palco, bene, ti capita di andare al, sono finito sul palco di quel palco lì, 15.000 persone, però magari una settimana dopo vado alla saga di paese, dove ci sono 200 persone, e il palco non ce n'è anche. Però devi avere la testa di dire, ok, sono andato là, però vado anche qua. Magari... Questo, te lo dico in tutta onestà, è anche il tuo bello, tra virgolette. No, ma nel senso che tu sei sempre stata una persona che ha l'umiltà di affrontare, tra virgolette, palchi anche molto semplici, tra virgolette, quando però in parallelo hai anche una carriera, insomma, ormai importante, ecco, da questo punto di vista. Ma ti ringrazio, però ecco, io non vorrei che si screditassero queste feste di paese, queste sagre, averne, averne, poi andateci a fare lo spettacolo alla sagra, non è facile, perché alla sagra non c'è quello che paga il biglietto per il teatro, c'è la famiglia, c'è la nonna, c'è il bambino, c'è il ragazzo, quindi fallo, cioè, non è così semplice. Siete d'accordo con me? Ah, io sono pienamente d'accordo. Ecco, quindi, non scriviamo la sagra della salsiccia, fa averne di sagra della salsiccia, ma non perché, capito? Ecco, è un lavoro, è un lavoro, cioè, quello è il tuo lavoro. Guarda, Max, ti do la parola dopo perché volevo collegarmi subito a Michael, visto che da tanti anni ci conosciamo e da tanti anni segui appunto i vari palchi con il progetto dei 60 lire. Quanti anni è che ormai va avanti? Quest'anno sono 12. Ecco, vedi, ormai e tu mi sembri sempre quello giovane, lo sai ancora, per carità, però effettivamente anche tu hai messo subito i tuoi anni, insomma. E anche molti capelli bianchi, Gli ho visti nascere, gli ho visti nascere. Beh, appunto, anch'io, mi ricordo anche quando venivate ancora gravando la serie vecchia di Tre Stense, che avevate 20 anni, penso, giudice. Sì, abbiamo iniziato a 22, quindi adesso ne ho qualcuno in più. Però, insomma, sono d'accordo con Andrea su quello che ha detto. Diciamo una cosa positiva di tutto quello che si sta girando attorno, io ho trovato un grandissimo affetto da parte della fanpage, insomma, delle persone che ci seguono, in tanti ci scrivono, quando è che ritornate, quando è che iniziate il tour, dove siete, dove andate. Quindi grande affetto da parte di chi ci aspetta da un anno, praticamente, un anno che siamo fermi. Quindi, noi riprendiamo il 21 di maggio e in queste ultime settimane arrivano messaggi di affetto a cui vi ringrazio tantissimo. Sono la linfa che ti danno l'energia giusta per poi affrontare anche palchi, come dici tu, Poltro, la sagra è tosta. Quindi, se c'hai la tua clac che viene a sostenerti, tutto diventa più facile. Poi si diventa, cioè diventi veramente un artigiano, no? Un artigiano della musica, del tuo lavoro. Io ho sempre girato con il mio impianto, mi vergogno a dirlo, cioè io vado lì, mi monto l'impianto, ma anche perché mi piace. Cioè, proprio, cioè, scusate se vi interrompo un attimo perché mi correggo su una cosa che ho detto, è stata annullata una rete alla Vicenza dopo la visione al VAR, quindi in questo momento la partita è ancora 0-0 tra Vicenza e Cosenza. Bello, che così soffrono fino alla fine. No, perché dicevo, vedo 0-0, dico, ho visto male, la visione al VAR, vabbè, ok, quindi ancora 0-0. Max, allora, nel tuo caso magari è un po' diverso, non tanto, perché insomma, io parlavo con loro due perché da tanti anni in una carriera, anche tu sicuramente hai nel tuo ambito, diciamo, una carriera, ma una carriera diversa, insomma, ecco, quindi hai sempre frequentato ambiti più legati al rap, tipi di palchi più di nicchia forse. Io invece ti dico che sottolineo quello che hanno appena detto, perché per tanti anni ho frequentato, diciamo, gli ambienti più settoriali, dove era più facile far valere la regola del presentarsi davanti a un pubblico che vuole sentire quello, tu gli fai sentire quello, patuisce la tua retribuzione ed è tutto più semplice, perché comunque se sei inserito in un ambiente, in un giro, le date degli anni sono quelle, gira in gira, ne saltano fuori di nuovo, qualcuna si scambiano e tutto continua così. Negli ultimi anni, dall'anno scorso, diciamo, che sono entrato, possiamo dire, in un circuito più pop, avendo anche magari la band che mi suona le cose, eccetera, e ho riscontrato quanto è difficile andarsi a prendere degli spazi che sono assegnati a tavolino, diciamo, a quelli che diceva Poltro, diciamo, quelli che suonano abitualmente due ore, due ore e mezza per due birre e che vanno a togliere il lavoro poi quelli che lavorano. È la verità. Dall'altro lato, c'è anche la difficoltà di chi fa musica propria di promuoversi e questa è una cosa che proprio andrebbe rivisto il settore musica. Ci sono pochi concorsi, poche manifestazioni volte a far conoscere quelli che si devono fare conoscere e c'è tanto mercato tagliato fuori di quelli che lo fanno di professione a vantaggio di chi lo fa per emergere ma si deve mettere a togliere il posto quelli che lo fanno di professione. Però scusate, adesso, però vi rigiro la domanda, questa è colpa soltanto di chi si vende a poco o è colpa di chi compra a poco? Non è colpa dell'ingranaggio che culturalmente la musica non gli si dà il valore che merita. Perché ragazzi, adesso diciamoci le cose come stanno, ti puoi prendere un tablet da 100 euro prendere uno da mille e ovvio che quello da mille ti renderà molto di più. Cioè, la stessa cosa vale per la musica ma per tutto. Ma anche il barettino può prendere il DJ il ragazzino che magari ha comprato la console l'altro ieri che ha cultura musicale pari a zero suona una playlist e lo paga 50 euro perché porta 200 amici. Poi magari c'è il DJ di professione che ti fa un DJ set articolato che se l'è studiato che lo varia in base alla gente che c'è presente che sa leggere la pista eccetera però se questo lavoro non viene riconosciuto anche economicamente questi non riescono a farlo di lavoro. Certo. Anche perché ci sono vari settori allora la musica è tanta c'è la musica classica la musica operistica ci sono la musica la pop musica pop musica gesta allora sono scelte all'estero in tanti paesi anche europei ci sono le fasce fascia 1 fascia 2 fascia 3 appartiene alla fascia 1 bene quante date fai all'anno? 80 benissimo ti diamo questo allora in Italia cosa c'è? in Italia c'è un sistema che io agibilità è impulse cioè uno non sa cos'è e vuole fare il musicista non può pensare di fare il musicista cioè allora quando c'è stata la pandemia tanti dicevano eh mi manca il palco non riesco più a suonare non so come fare non mi è arrivato niente bene quante fatture hai fatto in 15 anni? una beh allora cioè allora no? adesso non è arrivato qui vai a tirare fuori un argomento no no ma giustissimo per verità che vale non solo della musica peraltro sì ma hai centrato in pieno la cosa servirebbe una struttura che ci si mette lì un sindacato chiunque dice signori volete andare a suonare? bene ma andiamo anche incontro ai giovani perché io non posso pensare che un gruppo di 15 anni 16 anni faccia la partita IVA e si mette in regola chi lo fa? nessuno in Italia quindi per forza succede questo all'estero in Italia c'è il fenomeno anche di chi paga per suonare chi paga per suonare questo è tasto dolentissimo io ogni anno che mi chiamano per me mi sento miracolato ma miracolato perché dalla mattina alla sera penso al mio lavoro cioè sono sempre lì vado vado tu oramai comunque è vero che sei cambiato negli anni però sei quasi un brand nel senso che comunque la gente sa che se chiama Andrea Poltronieri ha una garanzia sì però c'è anche il rischio che dice sì ancora basta cioè nel senso però miracolosamente ci sono dei posti dove vado da 30 anni cioè perché sanno vedono che comunque nella mia serata c'è la parte musicale che cambia sempre e anche la parte musicale tipo non so le parodie che facevo già nel 95 continuo a farle nelle mie cose quando sono in zona le faccio ma mi diverto anch'io a farle quindi per carità allora intanto qua io continuo a guardare un po' i messaggi che arrivano intanto vi dico c'è Bruna che dice in generale siete bravissimi tutti quanti grazie Bruna grazie Bruna poi mancano i controlli per chi fa spettacolo gratuitamente questo è un messaggio che ho creato adesso non so io qui adesso leggo pari pari quello che state scrivendo però mi piace perché state tenendo attivo a me manca la cultura dello spettacolo io lo sottolineerò sempre cioè non si dà valore a chi fa arte e non vale solo per la musica vale per tutte le forme di spettacolo vengono considerate come hobby del dopo lavoro come cose superficiali che possono fare tutti ma tu cosa fai di lavoro c'è anche mio cugino di lavoro vero Nicola quante volte fai musicista di lavoro vero ti diverti sì ti diverti perché facciamo un bel lavoro però non capiscono cosa c'è dietro cosa c'è dietro a sto lavoro io lo so che stai 12 ore in giro fuori non hai il sabato o la domenica l'estate per te non esiste questa cosa non lo sanno non lo sanno perché in realtà il concetto non è che non esiste è che vi state divertendo è quello il discorso capito quindi di conseguenza è una bella estate perché vi state divertendo a me piace sempre dire una cosa bisogna sempre far credere alle persone che è il lavoro più bello del mondo le persone devono sempre sognare quando vedono un artista che si esibisce e quindi pensare che sia la cosa più facile e semplice del mondo facile ecco ma non è così dietro non è così ma l'importante è che non lo sappiano mai che stiamo 12 ore in giro sotto il sole a montare l'impianto e poi a faticare anche perché poi dopo stai in tante ore in sala prove e poi devi provare devi provare a arrangiare i nuovi pezzi poi sfatiamo anche il mito dello studio di registrazione perché in studio di registrazione ci si annoia bellissimo imbarazzanti questa cosa che si va tutti in studio divertiti che si ride e si scherza dopo un paio d'ore che riascolti lo stesso loop in sequenza il fonico forse si diverte perché si è scelto quella cosa però il musicista il cantante si stanca non vuole andare fuori ragazzi adesso c'è da dire che abbiamo un sacco di possibilità in più perché io quando avevo le mie prime band negli anni 80 come facevi per farti conoscere andavi in giro con la cassettina il nastro registrato in sala prove una foto fotocopiata le prime a 3 a 4 dicevi ecco questi siamo noi ok va bene dai venite venite a suonare sabato basta venite a suonare poi vediamo quanta gente adesso invece hai mille possibilità in più la rete hai mille possibilità in più la musica la senti ovunque c'è dal telefono al tablet ok google alexa fammi sentire questa canzone abbiamo una possibilità incredibile però i contenuti dove sono quindi alla fine se uno non ha i contenuti puoi avere è la categoria date date imbarazzanti vogliamo aprire una parentesi sulle date imbarazzanti che si facevano perché penso che fino a un 10 15 anni fa chi doveva chi voleva farsi conoscere prima dell'avvento totale di internet si andava a suonare veramente nei posti più luridi della provincia anche davanti a tre persone senti Max c'è un messaggio per te anche se la località mi sa che tradisce un nome diverso buonasera a tutti saluto tutto lo studio volevo chiedere a Max Fogli un giudizio musicale sulla canzone dell'Armenia firmata Piero D'Arenazzo per me non si chiama Piero questo comunque è troppo è troppo è troppo facile è troppo fidelizzata alla difficoltà alla domanda quindi volevo salutare Matteo che ci sta guardando vabbè assoluto in questo momento dai leggi ciao Matteo tra l'altro parlando di di calcio ancora vi ricordo siamo all'ottantacinquesimo ancora 0-0 tra Vicenza e Cosenza questi si la giocano fino all'ultimo proprio fino con l'altra partita che sarà appunto il ritorno il 20 di maggio per cui insomma manca veramente poco poi vedremo come andrà a finire tra le due squadre allora intanto giusto per aggiornarvi siamo al Montenegro tra le appunto i paesi che stanno esibendo dopo cena ci sta sempre il Montenegro esattivo siamo al 15 su 18 tra l'altro quindi ci sono ci sta ancora il caffettino finale lei si chiama Vladana e la canzone Breathe poi mancano Belgio Svezia e Repubblica Cieca poi si andrà a vedere chi passerà per questa per questa seconda semifinale allora intanto è molto chiaro il discorso che avete fatto per l'estate però a prescindere da questo mi pare di capire che tu di serate ne hai già pronte di serate ne ho già pronte da una quarantina diciamo adesso più o meno Max so che con te possiamo invece affrontare un altro argomento tu sarai a Rocafè così lo celebriamo dove presenterò il singolo per la prima volta assoluta che l'ho già sentito che l'ha già sentito Andrea l'ha già sentito ovviamente perché ci ha messo il sac è stato un onore per me averlo nella traccia e per questa cosa ringrazio Alex Mari e Gianluca Pisana che sono stati diciamo i due artefici del ponte delle due cose nonché sono i miei direttori artistici se così possiamo chiamarli che mi curano tutto a livello musicale ma tu a Rocafè sei in gara proprio no sono fuori concorso perché i vecchi puoi dire i vecchi i vecchi non possono fare il concorso mi fa più comodo perché sennò devo dire guardate che noi ti fiamo per tutti non è che perché lui è qui dobbiamo ti fare per lui però io sono uno di quelli che mi sarei anche messo in gioco anche con gli under non mi spaventa nel senso le manifestazioni ci sta ma tutto ciò che mette un po' di competizione è sempre divertente io Nicola ho suonato nel suo brano da quando ho suonato il sax non mi va più via dalla testa c'è una roba un pezzo che lo senti ci deve essere qualcosa dentro di sopranaturale che ti entra nel cervello non ti va più via me lo canto continuamente e poi aggiungo che comunque grazie a tutte queste cose il livello si è alzato di qualità ovunque cioè anche nei piccoli festival nelle piccole cose la qualità cioè tu vedi dei service audio adesso e loro possono confermare anche Michael di una qualità incredibile cioè anni fa trovavi la cassa il faro adesso cioè anche i piccoli service audio sono di qualità quindi poi sul palco tu devi rendere ancora di più qual è il motivo perché la gente ti filma ti filmano tutti allora anni fa potevi permetterti di sbagliare senza voce anzi a maggior ragione se fai la gaff finisci subito su tutti i social è finito e sei rovinato tra me di gente è così che sta così che io non so cioè che batteria hanno quel telefono quanti giga una o una sera il concerto di Cristiano D'Avest sotto il palco così tutta sera perché è diventato più importante dimostrare di esserci stati che essersi goduti il concerto ma questo è un problema che c'è su tanti è un po' come chi va in vacanza per farsi le foto anziché andare in vacanza per godersi la vacanza e fare anche le foto ma è così siamo così poi tutti facciamo le foto anche ai piatti quando andiamo a mangiare il flash fanno la foto la pubblica dove sei è il tag cioè ormai siamo vogliamo io però c'è una categoria che amo quelli di non so vai in una città fai la foto ah dirmelo che eri qui come se tu ogni volta che lasci in un posto devi dire a tutti quelli che abitano in quella città che sei lì ma è un modo per dirlo fare la foto è vero sì sì no è vero i social sono la nuova piazza assolutamente anzi molto una piazza enorme una piazza gigantesca ma i social faccio una domanda un po' marzuliana hanno aiutato la musica o al contrario hanno messo in difficoltà il fatto che c'è anche troppa offerta io credo che abbia aiutato soprattutto gli artisti che non hanno il coraggio di portare la loro la loro musica sopra un palco ci sono molti ragazzini adolescenti io poi ho insegnato anni fa a molti adolescenti e loro hanno questa valvola di sfogo che è proprio quella di mettersi in cameretta con microfoni super super tecnici che loro comunque hanno tutto a livelli altissimi e registrano nella loro cameretta ma a dei livelli esagerati e quello il loro sfogo non è più live non è più il palco ma si stanno buttando cioè molti hanno fanno molti contenuti musicali nei loro canali io sono boomer ancora sono contrario io sono ancora per la musica dal vivo ma anch'io l'emozione ma per carità anch'io ma sto vedendo le nuove generazioni che si stanno ma ecco l'ha aperto una finestra molto interessante che è quella dell'insegnamento che io insegno sax da qualche anno Nicola sono le stesse music academy sì certo e posso fare qualche esempio da Sergio allora io posso fare qualche esempio io insegno uno strumento che non è popolarissimo il sax cioè tanti vanno a lezioni di canto chitarra pianoforte no? voce classici sax devi essere proprio e tra gli elevi che ho ho un ragazzino che è venuto da me quando aveva 11 anni adesso ne ha 15 e l'ho cresciuto praticamente io musicalmente no? e lui che cosa fa? noi facciamo un uso della tecnologia abbastanza intelligente spero nel senso che se lui mi dice che canzone io gli chiedo che canzone vuoi suonare? lui ha la fortuna di avere una famiglia dietro che ascolta la buona musica quindi un giorno dice il mio canto libero di Battisti ha voluto fare un pezzo dei talk talk ha voluto fare un pezzo di Nirvana cioè che da un ragazzino di 14 anni con il sax non ti aspetta però noi cosa facciamo? andiamo a cercare in internet una base la attacchiamo a una cassa lui sente il suono gli monta un microfono hai capito? suona e si diverte si diverte chiaro che lo rendi veramente partecipe c'è anche la teoria facciamo anche 10 minuti o 14 anni di teoria però lui un ragazzino di oggi erano cose impensabili un tempo anche solo dire mettiamo sulla base cercandola in internet ma cerchi lì e vai hai capito? io faccio così poi è chiaro c'è quello che non vuole questo allora stai più sulla teoria armonia tutte queste cose qua che ci devono essere un minimo anche lui le deve imparare anche quando improvvisi io glielo spiego tutti mi chiedono come si fa a fare ad improvvisare con il sax col DJ è difficile perché? perché devi improvvisare quando improvvisi devi capire almeno che tonalità sei e con il DJ non lo sai quasi mai perché il DJ mette magari il pitch un pezzo un po' più veloce allora con il sax devi intonarlo velocemente oddio insomma è tutto è come nella vita cioè nella musica è un mestiere che va bisogna stare con la testa a studiare a questo punto che cambia di continuo esatto non è così facile perché anche solo rimanere al passo con l'utilizzo che fanno i più giovani della tecnologia e anche dell'uso dei social non è semplice è tutto perché forse quello abbiamo noi da imparare da loro perché sono veramente bravi a promuoversi talmente bravi a promuoversi che hanno tralasciato la parte più importante che è quella della ricerca dello studio certo quindi sulla bilancia sono due cose differenti adesso fai presto se imbrocchi tipo tiktok che adesso dobbiamo fare i conti con tiktok dobbiamo farla se imbrocchi la canzone da povero gabbiano a un casino tre casco una moto shakerando che nel giro di una settimana diventa una hit paurosa e poi dopo dieci giorni non te la ricordi più però povero gabbiano è rimasta però fattura in quei dieci giorni in quei dieci giorni cosa fai? no è un disastro è un disastro appunto povero gabbiano che è dell'84 no no l'86 povero gabbiano eh lo so però vedi quanti abbiamo ho fatto più ho già visto una marea di versioni perché l'hanno remixata in tutti i modi adesso è il pezzo più popolare di Gianni Celeste eh sì 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 assolutamente ma è un pezzo che tra l'altro nella sua discografia non era stato neanche considerato più di tanto quando è uscito 30 anni dopo allora stiamo per dare pubblicità volevo giusto leggere qualche messaggio perché ci state scrivendo devo dire mi fa molto piacere Gloria dice sono in diretta con voi e con Torino a proposito di tecnologia effettivamente è vero cioè molti stanno guardando da una parte e dall'altra c'è un saluto da Londra mi dice ciao ragazzi da Londra ha firmato Deborah effettivamente il numero è uno 0044 quindi mi viene a pensare ah ecco perfetto la conosco perché lei lavorava per Tele Londra e quando c'è stata la pandemia mi ha messo in contatto e ho fatto varie dirette sulla tv ecco eri lì ecco eri lì il contatto ciao Deborah tra l'altro ciao Deborah grazie poi vabbè questo è un messaggio più vicino a Max però per tutti in realtà dice che bel trio il mio compagno di casa il mio compagno di classe e il mitico poltro un saluto a tutti voi ciao ragazzi non è firmato ma scommetto che si chiama Sonia andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo ciao allora intanto torniamo in onda sempre il match del giovedì Vicenza 1 Cosenza 0 gol di maggio al novantesimo tra l'altro io non so se Google stia blefando meno dice che siamo al novantanovesimo mi sono un po' eccessivo sono che non siamo iniziati a supplementare sono tutti a Ferulli poi è entrato qualche gatto a Vicenza è un classico allora vediamo no no effettivamente anche il twitter di Vicenza ancora non la dà per finita vabbè staranno ancora giocando comunque 1 a 0 in questo momento tra Vicenza e Cosenza mentre invece a Torino l'Eurovision ha concluso con le esibizioni a meno c'era Repubblica C che era poco fa che si è esibita se non sbaglio quindi da adesso in poi succede che ci saranno le esibizioni dei fuori concorso per questa sera tra cui il tuo amico inglese Andrea quindi esatto e poi arriverà insomma la classifica per vedere quelli che saranno i 10 paesi che passeranno oltre i 10 dell'altra volta la pausini vi piace stasera così no 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 bomboniera anche un po' eccessiva direi come trucco a me piace il completo di Mika tantissimo ma quello comunque fa molto 60 lire non vorrei dire io mi ispiro tantissimo Mika appunto come si veste io l'ho sempre i tuoi completi monocolore molto con tonalità molto forti è una tua caratteristica pensa che mi vesto al buio al buio Cattelan secondo me è il nuovo Amadeus anche secondo me secondo me mi piace tantissimo Cattelan vedrai che presenterà Sanremo non quest'anno vabbè adesso per due anni c'è ancora Amadeus ne lo stanno chiedendo tutti poi quando presenti Sanremo questo è proprio è anche l'outfit però importante Cattelan sobrio però un po' di strassi io al di là della capacità che ha apprezzo molto anche una cosa che parla l'inglese veramente bene perché sembra una stupidaggine ma quanti sono quelli che lo parlano veramente bene l'inglese in Italia pochissimi dico veramente bene non da sfarfuliare insomma da fare una bella figura ecco se parli in pubblico poi sai cosa secondo me che sta facendo dei format anche nelle sue trasmissioni molto al passo coi tempi e molto che guardano avanti rispetto ai canoni della Rai intanto è terminata Vicenza quindi 1-0 Vicenza-Cosenza poi adesso aspetteremo il 20 di maggio è appunto il 20 di maggio sarà abbastanza pesante va bene allora in questo momento giusto per aggiornarvi su Rai 1 fanno rivedere velocemente tutte le canzoni ecco Erasmus 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 quelli di In the Shadow che è canzone che prima dicevamo ma si è di qualche anno fa 18 anni fa mi dicevi Michael mi sembra che sia del 2004 se non sbaglio sai poi effettivamente man mano che l'età avanza sembra ieri ma non è il passato ti sembra sempre ieri in realtà diventa l'altro ieri l'altro ieri ancora per me sono ancora quasi contemporaneo negli anni 90 ma oramai insomma per chi non possiamo votare noi oggi come? l'Italia non può votare no oggi no poteva votare nella prima semifinale per tutte le regole loro cosa stai facendo? ciao ciao? vabbè stai facendo di vedere a Serbia a Serbia sì comunque insomma tanti a me una cosa che piace dell'Eurovision è il fatto che partecipino veramente però tutti i paesi europei cioè nel senso che adesso in questo momento vediamo la Azerbaijan cioè anche paesi di cui non si parla mai fondamentalmente perché poi quando pensiamo Europa pensiamo sempre ai paesi più vicini a noi fondamentalmente già a guardare a Est credo che comunque non lo so Lituania piuttosto che non lo so sono paesi che non sono visitati in maniera ma anche più vicino a noi sono un po' meno alla portata sì Croazia magari la pensi per andare in vacanza più che altro in spiaggia ecco non decidi di fare una settimana in Armenia ecco esatto e quindi mi piace il fatto di conoscere anche paesi di cui magari sì insomma conosciamo meno le loro culture anche a Malta non ci sono mai stato vedevo che è passata a Malta poco fa mi manca mi manca vabbè allora intanto qui ancora ci sono un po' di saluti vari comunque grazie per chi ci sta seguendo o chi sta facendo la spola tra Telestense e Rai 1 in questo istante per seguire tutto quanto Michael non mi ricordo se comunque con te ti ho chiesto cosa farai quest'estate ma anche te poi forse non ne abbiamo parlato beh noi partiamo il 21 maggio con il nostro tour che si chiama Bello Qui Tour sì che è un nostro tormentone della band interno nostro e quindi l'abbiamo voluto chiamare così quest'anno anche perché sarà molto bello giriamo un bel po' abbiamo circa quelle 10-11 date al mese quindi credo ci divertiremo tanto anche perché gli ultimi concerti che abbiamo fatto abbiamo sentito davvero un calore che non sentivo da non credo di non aver mai sentito il calore così per la band da tanti anni quindi è una cosa che mi stimola e non vedo l'ora che sia il 21 per iniziare e poi dopo divertirmi nei weekend a suonare e a far divertire la gente che ci viene a vedere perché quella è la linfa è l'energia giusta speriamo insomma seguiteci insomma venite a vedere che tanto quelle due orette lì facciamo in modo di farvi divertire ma quello ormai è anche un marchio è una garanzia proprio prima dicevo che Andrea Poltonieri ormai è un bread ma anche 60 lire diciamo da questo punto di vista facciamo il possibile io ancora non ci credo quando iniziamo 12 anni fa così che ci venne questa idea qua e poi con l'andare nel tempo poi abbiamo visto che il gioco è diventato un lavoro e che poi vabbè dopo i trascorsi sappiamo tutti come è andata poi a finire dopo si rinizia e finalmente con la gente che non avrà le mascherine che potrà anche alzarsi a ballare potremo divertirci di più e scambiarci tanta energia io sono andato a vederli anche vabbè anch'io varie volte figuratelo mai io anche di recente chi non è mai andato a vedere i 60 lire? finito al Pacero? sì sì ok al Pacero? sì ho fatto un concerto di molto bello senti Max per finire il giro a parte Rock Cafè hai qualche data già pianificata? sto calendarizzando tanti spot all'interno di eventi dove mi imbucco faccio una o due canzoni approfitto del pubblico degli altri mi imbucco nelle cose già organizzate anche eventi non musicali per pubblicizzare quello che è il singolo di quest'anno anche abbinato quello dell'anno scorso che è molto riconoscibile anche diciamo per il territorio quindi è una cosa che mi risulta anche abbastanza semplice e poi continuiamo poi a lavorare per il disco allora ti dico solo una cosa per chiudere dato che tu sai bene chi è Ambra una tua piccola fan sì che l'altro giorno ho rivisto quindi i nostri studi e ha detto che vorrebbe essere la ballerina del video eventualmente perché no? lo diciamo così in diretta Ambra se ci stai seguendo sappi che c'è questa opportunità dicevi Andrea invece prima che ti ho interrotto ma no non mi ricordo cosa stavo dicendo però ma tanto oggi ti ha tutto bravo così io sto facendo vabbè ho collaborato con lui nel suo brano che uscirà e poi ho fatto altre collaborazioni e sto lavorando su un brano nuovo mio che uscirà penso tra un mesetto se tutto va bene e questa è questa cosa poi per quest'estate ho il mio potro show classico One Man Band quello oramai ti conosciamo tutti esatto e poi versione anche con chitarrista che in questo caso Sergio lo sono e poi faccio questo spettacolo già da anni con Duilo Pizzocchi facciamo Bologna contro Ferrara dove ci divertiamo a prenderci in giro lui con la maglia del Bologna che non si mette mai e io la maglia della Spa ci prendiamo un po' in giro su questo anche qui abbiamo un po' di date o Ciocca Piatti si nasce che è un altro spettacolo con Iari Munari il batterista grande Iari poi farò un paio di date con Paolo Cevoli uno a Brescia l'altro non mi ricordo dov'è e poi c'è questo tour con Cristina D'Avene Gemboy che inizia il 28 maggio che è fine mese saremo ad Empoli che c'è un super comics grossissimo nella piazza centrale di Empoli poi gireremo andremo in Svizzera andremo a Sud andremo a Carroponte a Milano che è diventata il posto più grosso per i concerti quindi avremo un sacco di cose da fare ma ti chiedo una cosa quando fai questi tour perché io una cosa che ho sempre un po' invidiato di chi fa musica e quindi gira è il fatto di vedere tanti posti tu hai il tempo di vederli questi posti no immagino assolutamente perché poi allora dipende se ti muovi in aereo o ti muovi in macchina o ti muovi con gli altri perché ci sono queste tre possibilità cioè tipo per esempio hai detto poco fa vado in Svizzera non so dove dove andrete nella Svizzera italiana a Livigno a Livigno beh Livigno è in Italia ancora no allora aspetta come si chiama Lugano Lugano scusa ah Lugano perché abbiamo anche Livigno abbiamo anche Bellinzona quindi eh Bellinzona abbiamo tutto un po' un tour lì no perché mi hai sempre fatto l'idea dico ma che bello vai vedi alla fine dei conti sto facendo l'italiano medio vedi il ristorante e il locale esatto anche io sto facendo l'italiano medio ma che meglio che gira fa turismo a meno che tu non abbia il classico day off che è il giorno tra un concerto e l'altro magari che noi avremo lì magari dormi anche no che io cioè gli altri dormono io non mai Cristina non la vedi mai cioè proprio vedi il concerto ah tesoro che bella serata bacio sparisce e la vedi il giorno dopo sul palco fresca come una rosa ma mi mettono in frigo non so come non so dove la mettono invece io mi alzo presto Nicola cioè io con le bambine piccole ormai l'orologio e questo ve la posso testimoniare stamattina alle 8 mi ha mandato un video e era già in giro alle 8 sì sì stamattina ha portato le bambine alla scuola e via vabbè insomma bello bello anche così insomma vabbè tu Mike so che anche tu adesso è un periodo un po' frenetico della tua vita sì sì beh tutti i giorni in radio esatto quindi bello poi abbiamo creato una comunità di persone che ci seguono tutti i giorni con tanto affetto quindi è molto molto bello quello che si è creato poi si è creato un salottino carino andrò la settimana scorsa a trovarmi Max adesso appena appena vieni fuori col singolo ho vinto il primo lui ancora prima di annunciare quando che sarebbe uscito il pezzo mi ha scritto Mike mi fa devi venire da me hai vinto l'esclusiva per il primo po' ho vinto io allora diciamoci pure io e Mike a volte ci rubiamo gli ospiti tanto più che a volte poi collaboriamo anche lui per altre cose quindi è tutto tutto un giro ma al fin dei conti puoi ferrare un paesone siamo tutti vicini siamo tutti qua insomma però tolendo il discorso che dicevi prima quando sei in tour e dici vedi tanti posti allora no non li vedi i posti ma incontri persone cioè a me incontrare persone di quando che non so devo dire a Lucia che abbassi il volume della televisione sono persone che insomma in Piemonte c'è una cultura diversa vai in Veneto c'è una cultura diversa quindi vari pubblici il pubblico in ogni zona è differente quindi ha a che fare con tante persone perciò la cosa bella del lavoro del musicista no che ti fa girare e incontrare molta gente è quella di assorbire ogni cultura che noi siamo un paese multiculturale a ogni regione ah scassiamo anzi direi anche da provincia a provincia esatto e quindi ti arricchisci di quello a me è la cosa che preferisco di quando siamo in tour è conoscere gente e vedere come vive e i ristoranti e i ristoranti e spiegare come mangia che poi dopo ti portano a mangiare ti offrono bisogna mangiare la roba rocca io c'è da dire che Mike in quel mezzo io non ti ho mai visto grasso neanche io neanche i miei neanche i tuoi perché noi sul palco fa movimenti aerobici sì sì no ma per carità però insomma mi mantengo in forma dai no assolutamente e si va poi dopo sì sul palco bisogna avere il fiato e quindi bisogna allenarsi tutta una serie di cose ma è proprio il fatto che io mi alleni prima di andare sul palco è un modo di essere grato chi viene a vedermi tra l'altro è da inizio serata che ti volevo fare i complimenti per le calze non l'avevo ancora fatto mi piace molto non so se le hanno viste a casa ho i sushi va guarda guarda che c'è la gialla anche Andrea guarda quella di Spongebob tu sei più sobrio tu sei più sobrio in assoluto belle Spongebob questa maglia ne approfitto è una maglia domani andrò a Pordenone perché io faccio anche collaborazione a volte con Davide Toffolo che è un grandissimo personaggio fantastico certo che ho conosciuto perché lui la band i tre alleghi ragazzi morti che ormai sono ho fatto tre concerti con loro l'anno scorso ho fatto Bologna Milano Castello Sforzesco eccetera e adesso ho questo progetto bellissimo su Pasolini che fa con anche Vasco Brondi hanno fatto questa cosa lui disegna fa dei disegni ha fatto un libro bellissimo su Pasolini che è appena uscito e domani vado a Pordenone e conto anche di ci incontrare per capire anche se riusciamo a fare ancora qualche collaborazione o qualcosa perché a me piace fare le toccate e fughe per esempio non lo so come diceva lui per esempio con il mio sax mi piace fare delle robe magari che apparentemente non c'entrano però delle collaborazioni tipo vai lì fai un brano ci sono non so quante questo è un po' la mia cosa il mio obiettivo e poi ti serve ti serve ma assolutamente intanto perché comunque appunto ti apre un pubblico che magari non ti conosce o ti conosce poco e quindi ti fai apprezzare anche da altri e poi insomma con Toffolo immagino che magari hai la possibilità anche di sperimentare sonorità diverse rispetto a quelle che fai abitualmente sì sì e io le conosciute proprio per caso perché in casa mia c'è una super fan dei tre allegri che è mia moglie immaginavo per esclusione e no no ma anche mia suocera ma anche alle mie figlie piace e quindi io li conoscevo poco dico la verità però avendoli conosciuti così ho visto un concerto a Bologna all'Estragon e allora il giorno dopo ho scritto a Toffolo su Instagram così l'ho trovato ciao sono Andrea Potronieri faccio questo faccio questo bello vieni a Ravenna che suoniamo tra una settimana portati il sacro sono andato lì a Ravenna ho fatto due pezzi da lì ho fatto l'Alcatraz a Milano ma fantastico ho fatto a Bologna e appunto a Milano ancora però bellissimo un'esperienza proprio bella e la musica è bella per questo perché poi riesci a contaminare riesci a suonare nel suo brano riesci a andare ad allo cioè io vivo di questo proprio è il mio strumento è e poi grazie a questa cosa a questa apposizione dell'Eurovision sì vabbè ci sono gli endorsement gli endorsement gli endorsement degli strumenti come nel calcio hanno le scarpe della tot marca io uso degli strumenti di varie marche e mettendo a proposito dei social i tag delle varie marche che stai usando con questa apparizione ho avuto un sacco di visibilità anche all'estero c'è un manoscritto dalla Spagna c'è un sassofonista argentino che vuole incontrarmi perché ha visto il mio sacco quindi si apre tutto un mondo e questo va però a dimostrare che se usati bene i social invece sono veramente un ottimo mezzo di comunicazione per entrare in contatto proprio con persone che hanno un'affinità con te insomma e poi tra tutte queste date voglio dire che io farò ancora ancora una volta le date quelle super mega vicine io ho sempre il terrore di fare troppe date vicine anche Michael mi può capire perché quando ti chiamano o chiamano le agenzie varie cioè ti chiamano il paese per dire Cortesana Maris San Giacomo Porto Maggiore cioè non puoi farli tutti hai capito? come fai? però li devi fare perché comunque ti chiamano il tuo lavoro anche perché poi si fa tutte le sagre si fa tutte le feste allora io immagino che magari ci sono quelli che dicono si fa tutte le feste però poi se una gli dici di no ha proprio il cielo ha dovuto dire di no a un paio purtroppo perché erano troppo vicine proprio a termini di chilometri non potevo andare il lunedì a fare la stessa roba certo cioè devi rispettare e quindi niente si sta muovendo un po' tutto dai bene allora intanto mentre noi stiamo parlando guarda sono le cascate del Niagara con la Romania mi sto divertendo un sacco stasera con voi però giusto per capire cosa stanno facendo in questo momento non capisco da cosa siamo arrivati no c'è un mash up di alcuni di esibizioni intanto la Pausini mica eh infatti poi di questo sicuramente immagino ci saranno varie possibilità per riascoltarli già nelle prossime ore insomma quindi sentiremo quello che avevano combinato però mi sembra che anche questa sera sia una serata molto brillante quella dell'Eurovision molto ritmata l'unica cosa che non riusciamo a sentire in questo momento sono i commenti che arrivano ma forse un bene non lo so adesso vi chiamo c'è sempre mal gioio ma certo però mi hanno detto che se vai sul secondo audio dell'impostazione la puoi sentire in versione originale non so in quanti lo facciano magari molti manco lo sanno però c'è l'impostazione per il secondo audio eventualmente va bene allora intanto qui ancora un po' di saluti ciao ragazzi mi sto divertendo adesso non è firmato però mi fa piacere che ci sia ancora gente che sta seguendo abbiamo ancora gli ultimi minuti non volevo bruciarli io c'avevo una maria di domande dire il vero vabbè vediamo quali prendere vabbè cosa vedete quest'estate l'abbiamo già detto ecco di cosa ha voglia la gente me l'ho notata un po' l'avete già detto prima il fatto di stare comunque all'aperto però Andrea ripartirei da te visto che insomma sei reduci ancora da questa serata la gente ha voglia di due cose sorridere quindi la puoi far sorridere con la musica come fanno loro come fa lui quindi con i midley con le canzoni che magari sono canzoni che perché può funzionare funziona un gruppo come Santa Lira perché vanno a prendere dei brani che abbiamo nel nostro cuore nella nostra cultura suonati con rispetto però con sorriso allora hai vinto quando fai così con una chiave che piacciono anche i più giù assolutamente e poi hai la gente ha voglia di vedere qualcuno che suona perché io vedo che quando io suono il sax faccio il mio strumento che la gente è abituata a vederlo o su youtube o sui social ti vedi il ragazzino che ti guarda così e dice ma cavolo ma questo suona veramente ma che bello ma cos'è quindi ha voglia di quello riscoprire il fatto di essere partecipe di un evento musicale dal vivo la musica cosa c'è di più vedi cosa stiamo parlando cioè la musica è quella che vince sempre alla fine è un'immagine bellissima tra l'altro quella che stiamo vedendo mi piace moltissimo quando ci sono i tre conduttori insieme anche perché forse l'hai detto anche tu prima sono tre persone che stimo tutti e tre per motivi diversi insomma e quindi fanno anche proprio una bella immagine ripeto noi non stiamo sentendo quello che dicono però già vederli comunque mettono allegria anche entusiasmo entusiasmo sentono anche loro l'evento comunque perché essere anche a presentare l'Eurovision non è una cosa che si fa tutti i giorni poi in Italia ma io credo adesso prima vi chiedevate se l'Eurovision è molto seguito all'estero adesso questo non lo so forse io so che arrivano a guardare questa manifestazione tra i 200 e i 250 milioni quindi ce ne sono ed è la ed è il programma televisivo più seguito al mondo che non sia sportivo anche più degli Oscar è più seguito degli Oscar questo ma tu questo numero è la somma di quello che succede anche fuori dall'Europa sì sì ho letto degli articoli a riguardo che dicevano appunto che nel mondo è seguito da circa 200-250 milioni di persone se considerano che ha avuto 5 milioni e mezzo l'altra sera su Rai 1 quindi più sommando qualcuno qua e là perché comunque anche su San Marino TV c'è qualcuno che l'avrà visto sui social quindi insomma mettendo insieme magari diciamo almeno un 6 milioni sicuramente l'hanno visto ecco ho letto che anche negli Stati Uniti hanno fatto una sorta di festival che hanno fatto nelle varie regioni nelle varie nazioni il Minnesota il coso l'ho fatto l'altro giorno infatti per radio dicono hanno copiato l'Eurofestival vabbè stavo cercando di capire il volo e tra l'altro questa sera il volo praticamente c'è uno dei tre che si è beccato il covid quindi non è lì sono in due e c'è uno dei tre che si esibisce tramite ologramma infatti lo vedete sull'idea negli schermi ma a quanto pare si esibisce dal vivo si esibisce comunque dal vivo non ha spiccato il volo potrebbe fare povero gabbiano a questo punto tra l'altro sono a Ferrara anche loro beh a parte in quest'estate ci sarà veramente di tutto di più a Ferrara per cui sicuramente sarà un'estate molto molto interessante grandi nomi però l'abbiamo detto più volte prima rispettiamo tutti i tipi di nomi quelli piccoli quelli medi quelli grandi insomma andiamo a vedere musica in generale musica e spettacoli poi perché poi tutto quello che fa intrattenimento va benissimo allora siamo quasi addirittura d'arrivo tra l'altro non riusciremo a darvi i finalisti vabbè comunque li leggerete da tutte le parti quanti vanno in finale? in 20 in 20 10 stasera e 10 quelli dell'ultima puntata quindi 25 con i 5 finalisti potremmo fare una sorta di festival della provincia ferrarese sai che te lo stavo per dire io facciamo anche perché i comuni sono più o meno quelli a Copparo e quello che vince si fa intanto quali sono i 5 comuni più avanti? intanto ci sono i fondatori che siamo noi esatto che siamo già di diritto in finale in questo caso mi piace sta regola no sta cosa i 5 comuni principali Ferrara per forza poi ci potrebbe essere Cento, Comacchio e poi Pagliarima Goro, Paese Canoro Pagliarino e Bondeno e quello di Goro e Goro vabbè li fai tutti a Goro Goro, Paese Canoro ma appunto ci fai tutti c'è il vincitore e poi c'è la finalona la buttiamo qui oltre 60 lire Max Fogli già in finale questo è ovvio quest'anno diventa dura magari per l'anno prossimo buttiamola lì sai che roba che viene anche perché come succede con le squadre di calcio locali tra paesi che si ammazzano tra due paesi confinanti figurati anche nelle gare Canore perché poi cosa vincono qua hanno un premio sai che non lo so questa non la so l'abbiamo beccato male male Buttini questa non la so domani in radio mi raccomando la dirò la dirò i cantanti che vanno insomma vieni a riportare a casa più tutto l'indotto al di là di vincere già che vai lì però qua non so anche perché la programmazione radio poi diventa importante se la canzone ha creato un po' di scalpore non necessariamente se è piaciuta ma se ha fatto parlare poi la canzone gira in radio ma tu Andrea l'atmosfera di Sanremo vissuta dietro le quinto o comunque semplicemente quello che succede a Sanremo l'hai mai vissuta cioè sei mai andato a Sanremo durante il festival mai ma anche solo per curiosità no no proprio una cosa che mi manca non ci sono mai stato c'è proprio ma neanche andato qua bisogna organizzare guardate che io da miscredente ci sono andato più di una volta e devo dire che ogni volta ti rapisce sta cosa non ci sono mai andato perché poi tutti gli eventi collaterali che ci sono che sono veramente tantissimi alla fine dei conti tutti cantano è così è bello poi nei vari alberghi dove ci sono i vari cantanti che si possono anche avvicinare senza troppe difficoltà al più delle volte va bene allora comunque noi siamo quasi addirittura ad arrivo io ringrazio quelli che ci hanno seguito anche questa sera se ci seguirete in replica sappiate che ormai è andata con i messaggi però ben felici anche se volete rivedere il tutto non abbiamo alcuni dati da darvi sull'Eurovision però possiamo dirvi possiamo confermarvi che il Vicenza ha vinto 1 a 0 sul Cosenza questo è ufficiale questa è ufficiale a 100% allora io ringrazio Michael Buttini grazie a tutti buonanotte buona estate con i 60 lire grazie Max Fogli grazie Nicola e ciao a tutti e poi ringrazio Andrea Poltronieri però Andrea guarda chiedo alla regia se facciamo il tempo a mandare ecco come conclusione finale quell'altro video di Andrea dove eri tra l'altro mi sono arrivati mille messaggi perché mi hanno detto ma dove eri spieghiamolo dai così lo chiudiamo in questo modo si no Rai per il sociale mi ha fatto questa intervista mini intervista e c'è Cristina D'Avena ci sono io e ci sono anche due drag queen che si sono esibite al pomeriggio che so che nel circuito delle drag queen sono le più più famose e hanno fatto hanno cantato e direi che sono andate anche al di fuori dei soliti magari cliché i quali siamo abituati a vedere magari il drag queen che fa Carrà e quelle canzoni lì hanno fatto delle altre cose mirate però sono truccatissime quindi sono molto e direi che la giacca che avevo ha colpito perché sono arrivati tutti da me eri arcobaleno esatto a chiedermi subito questa cosa allora lo lanciamo non so dalla regia se poi dobbiamo rientrare ma intanto lo lanciamo poi magari vi salutiamo con calma vediamo questo video allora con questo video chiudiamo grazie ancora Andrea Poltonieri Max Fogli e Michael Buttini buonanotte e ci vediamo al prossimo appuntamento di match del giovedì alla prossima grazie a tutti